galattici amici ma soprattutto galattiche amiche bentornati alla nostra rubrica quest'oggi cosa presentiamo colombino presentiamo il giveaway per il raggiungimento dei 100 iscritti al nostro canale cos'è un giveaway si tratta di un evento che organizziamo noi nel quale viene sorteggiato più o meno a caso un vincitore al quale daremo il nostro premio puoi dirlo in modo che lo capiscano allora praticamente per festeggiare i nostri 100 iscritti che salutiamo tutti quanti uno per uno abbiamo deciso di creare un evento particolare un giveaway praticamente ogni persona che si iscriverà al nostro canale commenterà sotto i nostri video di tutti i commenti che riceverete sotto questo video questo video ovviamente dicendoci cosa ne pensate se volete un appuntamento con colombino tutto quello che vi passa per la testa selezioneremo il commento più bello che avrà un premio molto molto particolare un saluto particolare al nostro centesimo iscritto o per meglio dire la nostra centesima iscritta ciao serena ciao sere ciao serena non mancate galattiche amici ma soprattutto galattiche amiche che non è impedito devo dirlo anch'io no ok lo facciamo bisogno allora noc no 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 các **** not to love you no 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 no